Allora per preparare questo piatto che io posso considerare benissimo unico perché comprende tutte le cose delle quali necessitiamo per la nostra alimentazione e questo come vi dice sempre Carla è molto importante, non rinunciare a niente. Allora, a giusto sì come si chiama, riso con i cavolfiori. Ci vuole un bellissimo cavolfiore. Lo prendiamo, togliamo il cavolfiore, le foglie più dure, quelle esterne, e poi lo cuociamo, ma non tantissimo. Deve rimanere, vedete come il mio, abbastanza sodo ancora. Poi lo dividerò a ciuffettini. Allora un bel cavolfiore. Servono alcuni cucchiai di bechamel. La bechamel possiamo prepararla noi oppure acquistarla già pronta, ce ne sono in commercio di ottime. Un piccolissimo pezzetto di burro, forse in elenco ingredienti vedrete 50 grammi, io vi consiglio di ridurlo, 20 sono più che sufficienti. Anche perché poi uniremo anche un paio di manciate abbondanti di grana grattugiato. Sale naturalmente che va nella bollitura sia del cavolfiore che poi nel resto. E poi per farvi fare in fretta. Ammettiamo che voi abbiate preparato il cavolfiore a mezzogiorno e lo tenete lì perché l'avete cotto per un'insalata, un contorno, ne cuocete due. Lo tenete lì, arrivate a casa all'ultimo momento. Volete fare questo piatto velocemente. Riso? Allora io vi consiglio questo riso favoloso che è riso gallo blonde metà tempo e che cuoce in 5-7 minuti al massimo. Nel caso poi di questa sera 5 minuti. Perché riso gallo blonde cuoce in 5 minuti? Intanto non rinunciamo. Abbiamo bisogno di questo prodotto per piatti dinamici e veloci. Ma non rinunciamo né al gusto, né alla sostanza, né alla sua tenuta di cottura. È disidratato. Ha tanti i fori che sono appunto ricavato di questa disidratazione. Assorbe subito l'acqua e cuoce velocemente. Riso gallo blonde metà tempo per la donna dinamica. 5 minuti e lo mettiamo subito subito a cuocere nell'acqua abbondante salata. E allora mettiamo a cuocere il riso. Intanto vi dico un'altra cosa. Per il quantitativo, dunque riso gallo blonde metà tempo, ha dei, poi potete fare come volete, però l'ideale è mettere per una parte di riso tre parti di liquido, acqua o brodo. Allora io qua ho più di un litro d'acqua per 350 grammi di riso. Regolatevi perché questo deve essere il suo quantitativo di liquido esatto. Allora 350 io calcolo 7 pugni. Avete visto che ho salato naturalmente l'acqua, adesso mescolo così normalmente. Intanto ho messo a fondere un piccolo pezzettino di burro. Quando il riso sarà pronto tra 5 minuti, ancora caldo, lo condirò con questo burro. Ecco il riso scolato. Ed ecco che adesso io metto il pochino di burro. Vi ho detto poco burro perché praticamente e poi viene già condito anche con la bechamel. Posso mettere ancora adesso un po' di grana. Poi mescolo come se facessi un normalissimo riso in modo che si insaporisca un pochino con il condimento che ho preparato. Abbiamo acceso il forno moderatamente. Cerchiamo sempre di infilare le pirofile in forno a forno già pronto, caldo. Allora mi serve moderato, pertanto 170 massimo, anche meno. Prendiamo una pirofila che poi possa venire in tavola, come la mia, perché non possiamo poi togliere ogni commensale e si servirà della sua porzione. A questo punto il cavolfiore che è stato ridotto a ciuffetti viene inserito così, aspettate che lo avvicino, lo disponiamo tutto bene sopra il riso infilzando un pochino la sua base, in questo modo, in modo che rimanga lì. Come vi ho detto anche il cavolfiore deve essere un po' tosto, non cotto molto perché ora starà in forno ancora per 10 minuti e completerà la sua cottura. A questo punto io copro tutto con la bechamel, ricordate che c'era la bechamel, poi cospargo con un pochino di grana e metto in forno a gratinare, vi ho già detto, forno moderato, 10 minuti. Che profumino invitante che ha questo piatto, avete visto, semplicissimo. E come vi ho detto, comodamente un piatto unico e direi per 6 persone forse, perché vedete che è abbondante e poi è proprio buono buono. Servire mi raccomando subito ben caldo, intanto che i vostri si siedono a tavolo, voi frucchette in forno, portatelo all'ultimo momento. Grazie per l'attenzione anche questa sera, grazie, grazie. Siete dei tesori, ma che piacere che mi fate quando vi incontro per la strada e mi dite vedo la tua trasmissione, ho rifatto la tua... Uè, è un po' che non mi scrivete, come la mettiamo qua? Scrivetemi! Vima De Angelis, piazza della Valduina 49, 00136 Roma, ok. Dunque, prima di scappare, io devo fare un grandissimo saluto a delle amiche, ecco, di quelle che mi fermano. Stanno a Modena, sono capitanate da Cecilia. Allora, Cecilia e tutte le amiche di Modena si ritengono salutate affettuosamente da tutti noi. E continuate a seguirci, anzi, scrivetemi se è arrivato il salutino. E venerdì, pertanto, i miei appuntamenti sono per lunedì, a pranzo, intorno alle 11.43 con un ospite nuovo.